Amiche amici di Volonbrite, siamo in compagna di Valentina Pizzales in occasione della consegna ufficiale della mano protesica Nexus che gli permetterà ovviamente di fare tantissime cose. Quali sono le emozioni che stai provando? Rappresenta immagino per te una rinascita questa consegna. Una marea di emozioni tutte super positive, rinascita con la R maiuscola, una seconda rinascita. Dopo dieci anni senza la mia mano sinistra, per me questa è una giornata epica, una giornata storica che mi riempie il cuore di gioia. Sto provando tantissime emozioni, non vedo l'ora di diventare sempre più brava a utilizzarla, anche se già in questi due giorni ho fatto dei passi dal gigante perché è davvero semplice, mi risolve tanto la vita, non del tutto al 100% perché direi una bugia. E quindi da oggi in poi non dirò più l'importanza della mano sinistra perché finalmente ce l'ho di nuovo. E che direi, mi sento adesso davvero una vera Wonder Woman. Valentina ci ha cercato anni fa, sempre ovviamente per la protesizzazione che lei attendeva da dieci anni, da qui la sua grande felicità. Un po' la pandemia e un po' altre vicende hanno ritardato questo nostro incontro, ma devo dire che questa volta aspettare un po' di più è stato utile per tutti perché così è arrivata Nexus. In questo momento Valentina ha potuto utilizzare il primo esemplare. Questa mano Nexus è progettata e costruita a Leeds in Inghilterra. La nostra piccola azienda fa tutta la personalizzazione, quindi la parte su misura della protesi. Abbiamo avuto, se non altro, la piccola intuizione di assicurare questo gioiello per il mercato italiano in distribuzione esclusiva. La mano è tutta articolata, tutte le dita sono motorizzate e water resistance, un'altra cosa nuova, assoluta, ha un polso anche questo articolato e soprattutto il paziente può gestirla in maniera molto semplice e può gestire anche la rotazione del pollice. Questa protesi costa circa 40.000 euro e l'ASL ne paga circa 15.000, quindi la differenza, ahimè, è a carico dell'interessato in questo momento. Il problema è che in Italia abbiamo un nomenclatore tariffario, quindi il decreto ministeriale 332 del 1999 che non viene aggiornato in termini di tariffe ma anche di modelli di ausili disponibili appunto da 22 anni. Questo è un problema grosso che pone una grossa disparità tra ciò che è l'erogazione economica per una mano piuttosto che per una carrozzina che diventa sempre più insufficiente rispetto a quello che il mercato può offrire. Sono tanto attiva queste due realtà, diciamo, che è quella della violenza di genere, quindi qualsiasi forma di discriminazione, anche bullismo, cyberbullismo. Noi lo combattiamo tutti i giorni nelle scuole di tutta Italia di ordine grado assieme a Fare per Bene Ollus che è una realtà fantastica, un'associazione meravigliosa della quale io sono ambasciatrice. Raggiungo tanti studenti ogni giorno, sia appunto in DAD perché adesso di questi tempi, meno male che ci sono questi mezzi, sia in presenza. Il messaggio è sempre lo stesso, è quello di fare tesoro dei progetti che facciamo, quindi dello psicologo, dell'avvocato e quindi tutte le informazioni che gli danno loro, di fare tesoro della mia testimonianza perché io ero totalmente impreparata quando mi è accaduto quello che è. Mi è accaduto io non ho riconosciuto niente, non ho riconosciuto la violenza di tipo psicologico, non ho sentito i campanelli d'allarme e il fatto che mi sia stata data una seconda possibilità e proprio il motivo per il quale io ho preso come mission personale quella di far sì che non esista più nessuna Valentina e quindi la mia testimonianza deve servire proprio come monito ad aprire gli occhi e dire che non si devono vergognare, che uscire dalla violenza si può, si deve, che non bisogna farsi isolare ma bisogna denunciare e andare avanti e riprendersi la propria libertà e la propria vita perché è il dono più prezioso. E in più assolutamente che non devono più esistere discriminazioni di nessun genere perché appunto a me hanno sempre all'inizio ma ancora tuttora ricevo magari molti insulti online, body shaming, sui social e quindi secondo alcuni dovrei stare chiusa in casa, vergognarmi, non farmi vedere per il mio aspetto che è un po' strano e particolare come dico io, ma io invece, me ne frego, cammino a testa alta perché non ho niente da nascondere di cui vergognarmi, chi non mi vuole vedere si giri pure dall'altra parte perché non sono io che mi devo nascondere. Quindi voglio comunicare questo e dire a tutti di essere fieri di quello che si è perché siamo meravigliosi nella nostra diversità.